Simona Liguori che è consigliera regionale in Friuli Venezia Giulia eh innanzitutto ben ritrovata Simona e grazie per la tua partecipazione come sempre come si dice in questi casi non è solo un saluto diritto ma giustamente è un saluto perché sappiamo che tu sei sempre sensibile quando c'è da eh comunque la tua sensibilità è riconosciuta proprio perché sei sempre presente quando c'è da parlare di questi temi molto delicati no in Friuli Venezia Giulia ce n'è tanto da parlare. Buongiorno Omar ben trovati ai tuoi e ai vostri ascoltatori è un piacere essere con voi e di tanto in tanto giustamente fare un punto anche su quella che è appunto la sanità della nostra regione anche i temi quelli che sono un po' più all'ordine del giorno. Certo senti ehm nell'ultima l'ultima volta ci siamo visti durante diciamo così la pausa estiva qualcosa voleva stava bollendo in pentola però chiaramente l'estate come si dice porta riposo e la politica durante l'estate sta un po' in stand by no? A settembre quando siete ripartiti quel famoso ribollimento c'era ancora oppure è lì tranquillo in attesa di di uscire da un momento all'altro? Ma Omar dire che in sanità non ci sia tu l'hai chiamato giustamente giornalisticamente molto efficace ribollimento eh ribollimento c'è perché perché ci sono tante situazioni aperte che creano soprattutto problemi alle persone agli utenti ai nostri corregionali con cittadini quindi voglio dire lo stato di allerta sui temi della sanità quando parliamo appunto di liste di attesa parliamo di abbandono da parte di medici e di infermieri dei nostri ospedali e parliamo soprattutto del fatto appunto che le persone molto spesso pagano di tasca propria esami o visite specialistiche questo ribollimento è all'ordine del giorno eh si tratta soprattutto di comprendere come mai chi dovrebbe decidere che guida proprio metaforicamente ha in mano le leve del potere della nostra regione ovvero appunto eh il l'assessore Riccardi e il presidente Federica di questo ribollimento non se ne accorgano non è ironia né sarcasmo che io faccio perché essendo a contatto tutti i giorni con le persone che soffrono non di su queste cose non faccio ironia ma credo invece che bisogna assolutamente prendere atto che questa situazione in cui la sanità della nostra regione versa non è una situazione che soddisfa la gente la scusa eh tra parentesi del periodo della pandemia chiaramente ha influito gioco forza no? Però dall'altra parte la politica aveva promesso perché chiaramente eh quando si sta l'opposizione giustamente tu mi insegni devi vigilare no? Vigilare e pungere in eh chi governa però dall'altra parte chi ha governato chi sta attualmente governando ha fatto un periodo di opposizione in eh un il il mandato duemila e tredici duemila e diciotto promettendo mari e monti per quanto riguarda la sanità in particolare in Friuli Venezia Giulia dopo il decreto Seracchiani tedesca la domanda nasce spontanea chiaramente Simona Liguori come ho detto fa parte è dall'altra parte della barricata no? Però giustamente ha un'esperienza alle spalle un background che non devo spiegarlo io ma un background chiaro e trasparente ecco la il problema covid effettivamente quanto ha inciso per diciamo così modificare eventualmente oppure portare avanti secondo te i progetti da parte dell'attuale maggioranza e anche di quella precedente che più o meno era sempre quella Omar guarda in coscienza ti dico il mio punto di vista l'esperienza del covid ci ha o ci avrebbe potuto insegnare molto ci avrebbe in primis potuto insegnare che concentrare tutto nei grandi ospedali quindi parliamo di Udine di Pordenone e di Trieste crea naturalmente grandi disservizi perché anche la capacità dell'ospedale di Udine di ricevere in pronto soccorso di ricevere nei reparti di medica le persone è contenuta non è l'ospedale di Udine non è una fisarmonica che espandi fino allo spasimo ebbene il covid ci avrebbe dovuto insegnare e mi metto in questo perché come hai detto tu dobbiamo in qualche modo portare la voce della gente portare delle soluzioni a chi governa perché non è facile non vogliamo semplificare dicendo è tutto è tutto semplice per niente però io dico questo è del ragionamento che porto tante volte in aula il covid ci avrebbe dovuto insegnare che mettere tutto concentrare tutto nei grandi ospedali non dai delle risposte alla gente cioè il covid ci avrebbe dovuto insegnare lo dico per la terza volta che anche i piccoli ospedali la sanità territoriale in qualche modo va rivista la loro funzione e la loro riqualificazione che è quello che chiediamo quindi da questo punto di vista è va da sé va da sé ed è intuitivo comprendere che i grandi ospedali possono continuare a fare gli ospedali ad alta specializzazione se sono metaforicamente come fosse una ruota a il mozzo che è il grande ospedale ma devono esserci dei raggi sul territorio che sono proprio gli ospedali quelli specializzati periferici parliamo di tolmezzo parliamo di latisana parliamo di san daniele parliamo di palmanova e quelli invece più generalisti che sono quelli guarda caso nelle zone più impervie parliamo appunto di cividale che copre le valli del natisone e di gemona ecco la domanda che faccio adesso mi hai un po anche anticipato volevo farti una domanda ma mai mai già diciamo la risposta che avevo pensato io la domanda che ti faccio invece semona è questa no l'attuale diciamo così sistema sanitario parlo anche degli interventi con i pronti diciamo gli ex pronti soccorsi che sono postazioni per mobilitazione veloce via dicendo con le ambulanze magari nei presidi sanitari dismessi faccio esempio non so cormons piuttosto che altri altri ospedali che non sono più operativi ecco in un certo senso e qui chiedo in doppia veste c'è chiedo la domanda viene rivolta sia la simona liguori politica sia la simona liguori professionista cioè dottore secondo te è tutto sommato una rivisitazione in chiave centro-destra di quello che è la riforma scritta Seracchiani Telesca Omar guarda è una cosa che darti una risposta dicendo sì o no saremmo non saremmo nel giusto ti dico che è una cosa molto spuria molto molto come dire anche confusa ti faccio un esempio dicevamo prima e che cosa che cosa c'era nel 2018 quando finisce l'era appunto di Seracchiani e di Telesca Cividale per esempio aveva un pronto soccorso aveva dei letti per l'osservazione breve intensiva aveva un reparto di medicina e aveva anche una piastra di chirurgia di urna e quant'altro adesso se vai a guardare quello che ha Cividale non ha più la medicina non ha più il pronto soccorso è stato sono stati adesso anche messi in fermo le attività di gastroscopia e conoscopia per cui anche lì la gente deve andare lontano naturalmente dal Cividalese o dalle valli del Natisone quindi se mi chiedi in realtà di che che cosa eh di cosa stiamo riflettendo di che tipo di organizzazione quello che si vede a tuttora è una situazione molto come dire molto preso un pezzo messo l'altro lo confermiamo non lo confermiamo non c'è una linea che ci dica posso dire ambigua mi permette posso dire ambigua sì è una situazione che non è comprensibile neanche alla gente poi sai alla fine Omar alla fine possiamo cantare e suonare quanto vogliamo la musica ma poi dobbiamo chiedere alla gente se la gente si trova con questa organizzazione o non si trova allora basta che chiunque della giunta vada fuori un pronto soccorso o vada fuori un cup dov'è che il centro unico di prenotazione dove si va a prenotare gli esami e chiede alla gente come si è trovata e le risposte glieli dà la gente direttamente quindi è un po' questo io penso che le persone abbiano bisogno adesso di risposte non mi puoi dire fra tre anni avrò le case della salute avrò le case della comunità avrò la gente ti dice io ho bisogno di fare adesso una conoscopia dove devo andare devo andare da Masarolis devo andare al Maggiore di Trieste devo andare a Palmanova devo andare alla Tisana l'agenda è aperta e chiusa sono questi problemi che fanno parte di una di dare delle risposte quotidiane con il futuro il farò in sanità in questo momento veramente si fa molto poco per concludere il nostro intervento Simona come gruppo consigliare di riferimento ma insieme anche alle altre posizioni avete già qualche strategia di movimento per cercare di correggere la rotta chiaramente per quanto riguarda il vostro punto di vista certo certo ma guarda Oman sono praticamente quotidiane le le il quotidiano come dire un presidio da parte nostra di quelli che sono le esigenze dei territori e mia personalmente posso parlare sia appunto come lavoro che fanno le che fanno le minoranze sia anche appunto come lavoro della sottoscritta un lavoro praticamente quotidiano perché l'unica cosa che temiamo e che io temo purtroppo è che la gente si rassegni e capito ma a dire beh vabbè d'ora in poi mi metto nel conto che mi devo pagare tutto di tasca mia così si deve fare così devo fare allora per qualcuno che questo discorso lo può fare c'è gente che invece questo discorso non lo può fare non se lo può permettere non vogliamo arrivare lì onestamente quindi non è un qualcosa da fare con gesti eclatanti con scontri ideologici con strategie secondo me è un lavoro capillare di ascolto delle persone ma anche di portare delle proposte concrete che vengono fatte un tanto per esempio anche l'ultima sulla legge regionale sul fine vita Omar capisci sono persone che magari c'è il caso della paziente di trieste che ha chiesto di porre fine ai propri giorni avendo una malattia una malattia a prognosi molto grave e a breve prognosi grave non può essere che questa persona debba andare in Svizzera mi hai capito cosa intendo anche noi dobbiamo dare come ragione una risposta prendere in esame queste esigenze quindi è un lavorare quotidiano che permette anche alla popolazione di non farla sentire sola bene io direi che possiamo chiudere qui come sempre simona liguori è veloce chiara e trasparente non fa tanti di parole arriva sempre come si dice all'obiettivo centrale perché bisogna parlare usando un gergo tecnico potabile cioè tutti devono capire se continuiamo a parlare in gerghi politico diciamo così usiamo il politichese da una parte e il troppo tecnico dall'altra alla fine saremo sempre quei pochi a capire tutti gli altri faranno un po' la massa da pecoroni senza uscire con capo e coda grazie alla grazie al consigliere regionale simona liguori per la partecipazione buon lavoro a lei in vista anche dell'imminente ripresa della tornata politica e grazie ai nostri amici vicini e lontani per la visione all'ascolto chiaramente con simona liguori tendremo monitorato un po' la situazione e vi terremo aggiornati anche attraverso questa rete televisiva e come si dice nella lontana provincia dell'ipero mandi e la prossima grazie oma è un abbraccio a tutti ciao